L'Umbria rimarrà un'area di importanza strategica per Flixbus anche nella bassa stagione turistica. La società tedesca di autobus extraurbani, che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa, continuerà a puntare sul patrimonio storico e culturale Umbro, in linea con la volontà di supportare l'affermazione di un turismo destagionalizzato, sostenibile e di valore aggiunto per il territorio. Sono sette le città in cui farà tappa, Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Assisi, Orvieto e Todi. Nel capoluogo saranno tre le stazioni Scalo, Fontivegge, Piazza Partigiani e Piazzale Umbria Jazz. Inoltre Flixbus continuerà a collegare l'Umbria con l'estero. Saranno garantite le tratte verso Perugia da Monaco di Baviera, da Innsbruck, Klagenfort e Villaco in Austria e da Fiume in Croazia. Da Monaco e Innsbruck sarà possibile raggiungere anche Assisi, Foligno, Spoleto e Terni, mentre Orvieto sarà raggiungibile senza cambi da Ljubljana in Slovenia e da Zagabria in Croazia. L'unico territorio a restare un po' più scoperto è quello dell'Alta Umbria. Mancano all'appello infatti i territori di città di Castello e Gubbio. In quest'ultimo caso l'amaro è doppio, poiché dopo la brevissima esperienza avuta con Itabus, il comune o Gubbino avrebbe potuto ottenere una sorta di rivincita che invece si è vista sfumare. Con il suo operato, Flixbass intende supportare l'affermazione sul territorio di un sistema turistico più sostenibile, capace di creare valore aggiunto per la regione e le sue comunità, in antitesi con la filosofia del mordi e fuggi e in contrasto ai rischi dell'overtourism. In altre parole, la società tedesca ammira creare un modello nuovo di viaggiatore, fondato sull'apertura all'esperienza immersiva di una comunità, promuovendo destinazioni più insolite e meno note, con la possibilità di creare benefici per le realtà locali a livello di indotto turistico.